dietro questa questa signora che si chiama Luisa e che mi sta facendo il sistemando il capello oggi è un taglio unico e speciale così mi dice vero Luisa? Assolutamente oggi è un taglio nuovo un taglio più fresco e giovanile anche che ci sta vediamo un po' ma io vedo già che sta molto bene oggi quando vado fuori da qua oggi sono da Chiappo perché poi mi tolgo anche la mascherina quindi è una cosa mi ci vedo sai mi ci sto vedendo vero ti ci vedi mi ci vedo tanto proprio ma tanto tanto ma tanto 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 io direi che adesso ti spolvero adesso mi spoglia ti spoglio ti spolvero e inseriamo il tutto ma mi sembra veramente ottimo Grazie a tutti. Grazie a tutti.